un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo oggi ci troviamo qui nel sagrato l'ampio sagrato della chiesa di san pio da pietrilcina consacrata nel 2004 per raccontarvi quello che accadeva effettivamente quando era vivo padre pio in questo luogo c'erano dei campi che davano però l'opportunità a tutti i fedeli che giungevano qui a san giovanni rotondo che la sera volevano salutare padre pio o nel pomeriggio si intrattenevano proprio qui e guardando la sua cella che oggi la vediamo contraddistinta con una croce guardando la sua cella venivano qui e cominciavano a cantare cominciavano a chiamarlo e questo accadeva soprattutto la sera ecco quando volevano salutarlo lo volevano conge ecco si volevano congedare da padre pio ecco venivano qui padre pio ti vogliamo bene padre pio buonanotte padre pio ci vediamo domani tante piccole espressioni padre eusebio notte in questo suo libro che è stato il dono che lui ha fatto a coloro che hanno partecipato ai alla celebrazione dei suoi 50 anni di messa l'anniversario del della sua ordinazione sacerdotale racconta che qui ogni sera era una serenata infatti i figli spirituali si trattenevano qui e recitavano il santo rosario chiamavano con insistenza padre pio si affacciava alla finestra e salutava tutti con il suo fazzoletto bianco beh lui racconta padre eusebio che al tempo di padre pio non c'era ancora la messa vespertina ma al suo posto c'era la funzione serotina con gesù sacramentato questa scrive padre eusebio era sempre riservata a padre pio una sera venne qui l'attore carlo campanini ecco ricordiamo che l'attore carlo campanini è stato un grande figlio spirituale di padre pio 1906 nato 1984 morto lui racconta sempre che deve tutto a padre pio tutta la sua vita dall'inizio dal primo incontro dalla sua conversione quindi parliamo del primo incontro 1939 di fatti carlo secondo le sue intenzioni è stato seppellito proprio qui a san giovanni rotondo nel cimitero di san giovanni rotondo nella tomba di famiglia di fra daniele natale ecco proprio una sera carlo partecipò alla funzione serotina di padre pio e al termine della funzione lui si mise in chiesa nella piccola chiesetta in fondo alla chiesa ecco alla fine della della funzione la scuola cantorum intonò il canto andrò a vederla un di questo canto che ha un ritornello abbastanza particolare bisogna ripetere per ben tre volte al cielo al cielo al cielo andrò a vederla un di allora carlo si accorse che questa tonalità la scuola cantorum la faceva di un tono ogni volta al cielo si alzava di tonalità era un canto abbastanza particolare e nel momento in cui si alzava di tonalità l'ultimo al cielo carlo che era anche un cantante lui faceva operette a teatro è stato uno dei maggiori cantanti attori tra gli anni 30 e 50 qui in italia cantando al cielo al cielo al cielo l'ultimo al cielo lui stonò come si suol dire preso una bella stecca all'improvviso lui si si gira attorno per capire se qualcuno l'avesse visto avesse notato questa sua stonatura lui si rassicurò perché nessuno aveva notato tutti continuano a cantare nessuno aveva notato questa stonatura di carlo ecco padre userbio racconta che al termine della funzione carlo insieme ad altri uomini andò in sacrestia proprio perché lui voleva salutare padre pio voleva ricevere la benedizione e dopo l'immancabile ringraziamento benedisse tutti i presenti poi accompagnato dice padre userbio accompagnato a braccetto da me passava in mezzo a tutta la fila di uomini che era in sacrestia per andare verso la clausura quando fu davanti a campanini si fermò e disse carlè sei arrivato anche tu qui chiaramente in dialetto beneventano campanini rispose sì padre volevo essere qui presente a questo punto poi padre pio gli mise una mano sulla testa strapazzandola scherzosamente dice carlè quando si tratta di andare al cielo sempre in dialetto beneventano quando si tratta di andare al cielo tu fai un po' di fatica eh e subito campanini sorrise perché padre pio aveva capito qualche minuto dopo però l'ignaro padre userbio che non aveva cioè gli vedeva sorridere entrambi però non aveva capito nulla allora si avvicinò direttamente a campanini e chiese come mai padre pio ecco avesse utilizzato quella frase che comunque è una frase adatta a tutti no ma misteriosamente indirizzata proprio a lui perché e subito campanini spiegò l'accaduto ecco nei suoi racconti padre eusepio termina questo questa sua questi questi suoi appunti scrivendo ma come aveva fatto padre pio a notare la stonatura di campanini e poi da questa prendere lo spunto per lo sforzo quando si va al cielo a